Un museo come la Pinacoteca di Brewer è la nostra grande casa, è la casa dove mettiamo le cose preziosi che vogliamo conservare per il futuro, tutte insieme. Spesso ci sono le cose che non possiamo avere ciascuna di noi perché sono troppo grandi, troppo preziosi, troppo... però ogni casa è un museo, è un museo pieno di tesori. Quindi offrire tutto che una persona aspetterebbe di un museo, che sia veramente il cuore della sua città, da fare. Però facciamo per questo momento, tramite i modi elettronici, di social, di video. Non è l'ideale, però mostra che il cuore della città batta ancora e combattiamo questo momento di panico, tristezza, preoccupazione. Combattiamo, battiamo e siamo qui per la città, per ogni cittadino, come luogo di ispirazione, luogo di consolazione, luogo che aiuta a resistere, resistere tutte le guai che affrontiamo adesso. Grazie a tutti.